Allora, beh intanto ci saranno, è super profession, ci sono un po' di persone che magari si collegano, adesso aspettiamo ancora qualche minuto ma poi io partirei anche perché così non si va a sforare nel tempo. Premessa, io tanto non mi sono neanche preparata ma perché vabbè fondamentalmente è una presentazione un po' standard, quello che faccio sempre descrive il mio progetto in sé, c'è poco da dire o tanto, dipende un po' da dove va la discussione, quindi alla fine io mi lascio sempre un po' portare da quello. Per quello l'ho messa sotto forma di domande e risposte, anche poi alla fine io sono più interessata a fare domande a voi, però in questo momento mi lascio fare un po' di domande. Non so perché ma non vedo le chat, ah, ha funzionato, penso che il computer è un po' lento oggi, ha lavorato troppo all'editing del videocorso che sto preparando, è stanco. E' stanco, ecco, così vedo anche se qualcuno scrive un po' meglio, voilà. Bene. Non so, voi come state? Tanto che aspettiamo ancora un paio di minuti. Io mi sono preso una tisana, così mi rilasso. Anche io ce l'ho la tisanina. Tutto bene, tutto bene? Tu Barbara? Bene, bene, bene. Sì, sì. Lucia, ci vuoi sentire un po' della tua splendida energia? Anche io tutto bene, grazie. Anche se la sera è sempre... Io sono una che ama tantissimo la mattina, però dai, ogni qualche seratina si vuole. E anche io ho fatto uno strappo, perché per me alle nove sono già il momento in cui mi ritiro. Eh, anch'io quasi. Però ogni tanto facciamo le seratine. Eh già, ogni tanto ci sta. Ciao Salvino. Ciao Barbara. Come stai? Ma un po' attivo la telecamera, tiro via il piatto da davanti perché sto mangiando. Ciao, grazie, molto bene. E te come stai? Bene, bene, grazie. Stiamo aspettando un po' che arrivano un po' tutti, quindi sentivo un po' come state e voilà. Non c'è... Allora, con la camera, come ho detto, dicevo prima, non c'è proprio obbligo di tenerla accesa, nel senso che per me sarebbe importante poi poter caricare anche questo video su YouTube perché ci sono delle persone che non partecipano ma che poi avranno piacere a guardare un po' questa registrazione. Ecco, quindi a vostra, insomma, discrezione in questo senso, come volete fare. Voilà. Ok, sì, sì Laura, ottimo. Gabriella, non riesco ad attivare il microfono. Ah, ok. Senti? Sì, Laura, ti sento. Ok, allora il mio microfono è attivo. Il microfono è di Gabriella. Gabriella, ecco, io non so, io lo vedo come se fosse spento, però anche Nicolò, giusto? Problema col microfono. Quindi, bella domanda, ci sono sempre mille opzioni. Senti, ma intanto che aspettiamo, te la posso dire una cosa? Beh, sì, se la vuoi dire a tutti quanti, sì. Sì, perché è bella. Perché era la mia vittoria giornaliera, ti ricordi? Ah, sì. Abbiamo cambiato, abbiamo cambiato. Praticamente stamattina, quando sono andata ad allenarmi, stavo ascoltando uno dei podcast del coach che ti dicevo. quello, come è che si chiama, organizzazionale. e lui parlava della procrastinazione e parlava di questa sua amica che era una che lavora con i bambini disabili e fa la fisioterapista. E dice, sai, lavorare con i bambini disabili è dura. è dura avere le motivazioni perché il bambino ti dà poco risponso. E sono bambini, quindi emotivamente è un po' pesante. Poi dice che lei però teneva un diario di tutti i passi avanti che faceva con i bambini. E dice che praticamente alla fine, dopo due anni, lei era praticamente l'unica fisioterapista che è rimasta lì a lavorare perché guardava quello che i suoi bambini non sapevano fare l'anno prima dentro al diario. E quindi si sentiva soddisfatta perché aveva fatto dei passi avanti. E quindi questo la teneva motivata. No, perché guardava i passi avanti che aveva fatto nel diario. Ma ora cosa ho fatto? Sono andata nel mio quaderno di questo mese a guardare quello che ho studiato per il bot. Ti ricordi il bot? Sì, sì. Ecco, a inizio mese io avevo fatto delle strategie e adesso le ho cambiate. e praticamente, a parte che ho scoperto che le strategie che avevo fatte a inizio mese rendono un centesimo di quelle che sto facendo adesso, ma non solo, cioè quelle che ho fatte a inizio mese le posso mettere in pratica domani mattina. e sono contenta, non so, mi sento più motivata a fare il bot. Ti sei riconosciuta, ti sei riragata. Cioè, ho ragione, ho ragione. Bellissimo. Bella storia. Eh, io spero che vi serva, perché è una piccola cosa, però mamma mia, cioè, vabbè, basta. Grazie Laura. Grazie che mi avete ascoltato. No, è top, è top. Cioè, il riconoscimento, secondo me, è fondamentale. Sì, sì, e tra l'altro un po', c'è anche questa tematica si ritrova anche nel percorso che si fa proprio con cicatrici e baci, quello che vi vado a presentare, perché alla fine è una componente importantissima. Quando un po' qua tutti un po' si riconoscono, in un modo in un altro, beh, sì, chi fa coaching, chi si occupa di personal branding, scrittura. Sì, insomma, alla fine questo tema lo conosciamo e avere tanti approcci diversi anche a portarlo avanti, perché in ogni momento della vita magari ne serve uno diverso, non è male. Non è male. Dai. Io direi che 21 e 12, mi sembra un buon momento, comincerei comunque con la presentazione e tanto l'accesso è libero, quindi chi si collega poi ci farà compagnia. Bene, io la presentazione ve la inizio, ve la faccio, sarà breve, nel senso che cercherò di tenere i punti salienti, così che poi dopo entriamo in una conversazione e qui vediamo un po' dove ci porta. la discussione. Allora, innanzitutto, l'occasione di questa presentazione è proprio il fatto che è partito il crowdfunding sulla piattaforma Progettiamo, che è una cosa abbastanza emozionante per me, perché volevo farlo partire tipo anni fa e poi per una ragione o per l'altra l'abbiamo sempre rimandato. Ma credo che a questo punto sia importante, perché tutto quello che è stato fatto da parte mia su questo progetto dal 2018 ad oggi è stato tutto fatto comunque a titolo gratuito e comunque è stato un impegno abbastanza grande e ci sono stati grandi investimenti e continuano ad esserci, però io ci credo e quindi così mi apro a vedere chi ci crede con me. Detto questo, torniamo indietro nel tempo, nel 2018. Nel 2018 è stato l'anno in cui mi sono proprio detta e adesso io di tutto quello che ho fatto fino ad ora, di tutto quello che ho imparato, di tutto quello che ho imparato nel bene e nel male, cioè cosa farò, cosa non farò, come posso condensare tutto in un progetto che mi possa seguire nella mia crescita, mi possa permettere di mettere in pratica tutto quello che ho imparato e donarlo in qualche modo agli altri, mentre io stessa continuo a imparare nuove cose da offrire. Qual è il mio tema? Mi facevo queste domande e mi sono arrivate delle risposte. In pratica il tema della cicatrice l'ho evidenziato subito e qualcosa che mi porto e osservo e vivo, potrei dire, da sempre. E in sé, proprio dalla nascita, ma proprio per una questione fisica, per chi non lo sa, per le mie mani, così, per chiarezza, sono una sorta di cicatrice, se vogliamo. Sono nata così, quindi dico sempre, mi hanno dato una grande, grande, grande esperienza, perché sono lì da sempre. E poi non è che io le abbia vissute particolarmente male, però mi hanno dato un modo di osservare il mondo in modo diverso. Voilà. E quindi quando mi sono fatta queste domande, ecco il tema delle cicatrici è emerso. Cicatrici fisiche, cicatrici psicologiche, cicatrici visibili, invisibili. Ho pensato subito alle personali, ma anche a quelle del territorio, anche a quelle che sono date da eventi che vengono vissuti da una famiglia o da una popolazione intera, da un paese. C'è qualcosa che mi intriga molto nel conoscerle, osservarle e capire il tesoro che ci portano, perché in qualche modo hanno in sé qualcosa di profondo. In particolar modo, quello che ho poi delineato in una frase è dare luce e ritrarre quello che è il processo di guarigione. Perché io quando ho detto cicatrici ho pensato alla cicatrice, già pensavo a questo, ma ho dovuto riflettere un po' per dargli proprio il nome, perché a me non interessa la cronaca, non interessa quello che è successo, non interessa come la persona narra a se stessa e come intesse nel proprio vissuto tutto il processo che va dalla creazione di un trauma alla guarigione, alla cicatrizzazione, che poi può essere una guarigione completa o meno, ma questo sono tante sfumature, però. Quindi diciamo che il mio interesse è dare spazio, luce, visibilità, riconoscimento a quello che è il personale processo di guarigione, che fa parte poi dell'unicità di ognuno di noi. Ho questo fascino per il cosmo che c'è in ognuno di noi, perché è incredibile come condividiamo tante cose, ma abbiamo un'unicità e nel come affrontiamo il trauma, la vita e guariamo, secondo me emerge bene. O perlomeno io ho scoperto che ho questo tipo di attenzione e che lì potevo stare, stare a lungo. Mi ci vedo in questo progetto e infatti dal 2018 è ancora qui. Nonostante, perché? Perché è ancora un po' quasi come se fosse all'inizio? Beh, perché è partito in una fase di, come dire, test, perché io chiaramente l'ho progettato, però poi l'ho voluto testare e il test non solo è andato bene, ma mi ha portato proprio già a fare già un percorso di raffinamento, perché era molto grezzo all'inizio. Ho dovuto, proprio facendo, ho delineato meglio che cos'era, ho approfondito, no? e continuo a farlo. Nessuno, aspetta. Voilà. Ah sì, perché? Cos'è successo? È successo che poi è arrivato il Covid, chiamiamolo così, quello che sia comunque questo periodo è arrivato. Ciao Ivan. Insomma, ha costretto un po' a cambiare tutto, perché il mio progetto era di persona, si trattava di photoshooting fatti di persona. La registrazione... Eccoci qua, allora, dopo il problema di connessione ripartiamo da questo tempo innominabile nel quale questi photoshooting che avvenivano di persona, le presentazioni che avvenivano di persona, perché ho fatto diverse presentazioni in un museo che c'è qua, in uno spazio aggregativo di associazioni che è qua in loco, e quindi, niente, mi sono un po' diciamo, concentrata su tutta la parte che era comunque già parte del progetto, scusate, che era quella di vendi... cioè del mar... vendi tempo... Sì, però comunque il concetto era faccio dei ritrati di processi di guarigione che diventano comunque un'opera d'arte che viene venduta su un marketplace nella cripto, nel mondo della cripto, perché è una... è come una sorta di continua traslazione, no? cioè nel processo di cicatrici e baci parti da... io parto da un verbale che mi viene raccontato per entrare in un processo più sensoriale e di una narrativa più personale, più simbolica, per poi uscire attraverso un prodotto finale che attraverso comunque un dialogo che è fatto da me che mi tengo una responsabilità diciamo artistica di quasi come una regista un po' della cosa perché il prodotto possa essere mostrato che un po' il concetto per me in cicatrici e baci è legato al uscire concludere portare una nuova narrazione che si è completamente scelti in qualche modo cioè sì c'è anche la mia interpretazione però c'è anche la scelta infatti quello che sono vabbè io adesso non vi ho fatto partire la condivisione schermo però il prodotto finale sono delle fotografie o dei video dei fotocollage o dei videocollage quindi ma dopo magari andiamo ad approfondire per quello che ora vi sto percorrendo un attimo la storia così poi dopo possiamo andare in dettaglio nelle altre fasi insomma ecco questo era un'aggiuntina del percorso poi magari lo approfondiamo quindi voilà tuffo nel mondo cripto è grande dispersione perché ormai lì c'è un fermento novità tutti i giorni cose che vincono cose che falliscono vabbè avventurosissimo però diciamo che a un certo punto mi è venuto a mancare un po' qualcosa qualcosa di concreto e soprattutto quello che è il rapporto interpersonale quindi ho sentito che dovevo trovare il modo di far diventare questo progetto più grande che potesse contenere veramente qualcosa in più che potesse dare qualcosa in più che potesse essere anche capito più facilmente e e quindi iniziato un po' questa avventura nell'imparare cose nuove che mi potevano servire che condivido con alcuni di voi perché ci siamo incontrati proprio lì nella nostra accademia closer dove è emerso questo aspetto del percorso di cicatrici e baci legato al coaching che quindi sta portando diciamo l'apertura di una nuova potenzialità ecco al progetto intero voilà questo è un po' per la storia eccoci e magari due parole su quello che è invece il percorso in sé a meno che non avete delle domande già pronte se no delineo un attimo il percorso brevemente come si svolge perché di fatto è un po' un meccanismo si potrebbe dire sì c'è una struttura insomma si entra in una struttura la la base se vogliamo il classic modello classic di percorso cicatrici baci è una persona qualcuno che ha una ciao Francesca ciao diciamo una persona ha una storia di una cicatrice che vuole in qualche modo per le proprie ragioni essere in qualche modo osservata e raccontata ciao Andrea e viene da me e c'è un momento in cui si può si discute e io raccolgo in scusate il gatto per primo un racconto verbale o scritto di quella che è la cicatrice poi c'è il mio intervento che diciamo l'uso dei miei tool nella borsa di Mary Poppins a seconda di quello che mi viene portato e di quello che è un po' l'obiettivo in qualche modo che ognuno ha pesco dalla borsa di Mary Poppins quello che emerge perché lì è difficile da dire forse bisogna fare degli esempi ma è molto difficile perché io posso usare diciamo quello che ho sperimentato in prima persona quello che ho studiato sia a scuola che da sola che sono legati diciamo al mondo dell'arte sia visiva che narrativa ma proprio io parlo di fotografia disegno pittura teatro insomma tante cose ultimamente mi sono avvicinata tanto anche al suono l'emissione del suono quindi la vibrazione può essere anche non proprio il canto ma potrebbe rientrare il movimento tutti i miei interessi che possono andare dall'esoterismo all'avventura il simbolico lo studio dei simboli in realtà un po' di tutte le strutture che si ritrovano in tante pratiche diverse la magia della vita ultimamente anche lo sciamanesimo per quello che è la sua storia sia storica che anche più moderna e beh insomma borsa di Mary Poppins quello che emerge e praticamente chiedo vabbè do dei compiti a casa voilà e compiti a casa e poi ci si incontra in un photoshooting che è una vera e propria messa in scena della nuova narrazione di questa cicatrice io faccio io faccio fotografie qualche volta dei video e c'è una sorta di improvvisazione è proprio tutta una continua improvvisazione in quel momento sia per chi partecipa che per me è molto forte si alza l'energia e lì è il momento del qui e ora è quello che emerge che viene fissato quindi lo sappiamo cioè qualcosa in noi si attiva si sa cioè si va e si performa e lì che emerge quello che più potentemente vuole emergere e vuole esprimersi se vogliamo fatto questo io lavoro al materiale e poi incontro di nuovo chi ha partecipato per mostrare il lavoro avere un feedback vedere un po' se appunto la cosa è pronta o se è necessario lavorare ancora e di fatto questa è la base è molto avventurosa per sì è veramente da quel punto di vista c'è un po' questo leitmotiv di chi ha partecipato secondo me è è chi ha voluto veramente mettersi in gioco in questo modo e si metti in gioco anche con tutto quello che sono tutte le tue credenze cioè non lo so io lo trovo molto emozionante ecco poi cosa esiste vediamo un po' questo percorso base poi c'è l'opzione di fare un workshop e quindi un lavoro di gruppo che però abbiamo ancora diciamo ho deciso di lasciare ancora un po' di tempo però è in programma è in programma in assoluto e nel frattempo io mi sono dimenticata nella nella storia di parlarvi del fatto che c'è stato un test per le cicatrici di territorio che è stata una sorta di lavoro di gruppo in sé però legate alla radici di un territorio cioè scusate alle cicatrici di un territorio è stato molto interessante quindi questo apre veramente anche questa potenzialità per cui se ci fosse un territorio o un gruppo di persone che hanno condiviso una cicatrice c'è una struttura di lavoro già pronta e già testata che che si può utilizzare e più o meno il percorso è lo stesso però ovviamente il metodo di ricerca di connessione con le persone e col territorio è chiaramente diverso e chiaramente necessita un po' più di tempo e voilà di novità già attivata c'è il coaching e vuol dire anche un percorso personale che va a sfruttare tutte queste questi arnesi della borsa di Mary Poppins ma la componente artistica viene lasciata secondaria e emerge solo se deve emergere perché con il coaching la realizzazione è già quella di chi viene in coach il tuo obiettivo il proprio obiettivo e realizzarlo è già la realizzazione quindi c'è questa componente comunque dell'uscire fuori finire terminare e voilà in un prossimo futuro al lavoro in questi giorni che mi sta prendendo un sacco di tempo grazie al consiglio prezioso di Alessandro è il corso sto registrando il corso che si può poi in realtà scaricare e fare da sé un fai da te una versione per chi vuole approcciare questo questo metodo e chiaramente non contempla quello che è l'interazione per cui ho dovuto standardizzare un po' alcune cose però lasciando sempre lo spazio affinché fosse più unico per ognuno possibile voilà questo e ovviamente la partenza del crowdfunding su progettiamo che dà modo comunque anche di poi potermi proporre ad associazioni a gruppi e infine anche per poter avere finalmente le stampe dei lavori finiti per poi fare delle mostre che sono state un po' spostate perché comunque fare la mostra è abbastanza impegnativo e soprattutto avere delle buone stampe di qualità voilà io vi ho riassunto un po' tutto avevo anche preparato intanto che vi preparate anche voi con le domande una condivisione dello schermo così vi faccio intanto vedere le prime foto alcune delle foto qui abbiamo il sito su cui si trovano tutte e che è appunto super rare nel mondo delle cripto solo che la preview è quadrata di fatto le fotografie non sono quadrate qui magari vi lascio questo link così potete vederle perché bisogna proprio andare a cliccare su ognuna ma come potete vedere sono molto diversi uno dall'altro si può andare a cliccare e dopo si vede la fotografia intera ecco questo è un po' per avere un metodo un po' più semplice andiamo a ecco aspetta che adesso ho la barra qua impedisce di cambiare finestra come faccio mo allora metto in pausa no interrompo così faccio prima puoi costare la barra eh non ce l'ho fatta ho provato puoi trascinarla puoi trascinarla non mi si agganciava non so perché adesso riprovo se no alt tab ah ecco allora riprovo eh infatti mi si è riaprita questa quindi alt tab proviamo no eh dovrebbe dovrei riuscire a trascinarla ma per qualche ragione non riesco a agganciare ah ci ho fatta ecco ok ok così vi posso far partire eh la presentazione qua che è un po' più pratica da vedere voi non vedete anche la la barra vero la vedo su io quella credo così la posso mettere dove voglio vi sentite anche l'audio lo schermo no ah ok ma perché ho visto che c'è l'audio ma lo sento solo io insomma sono molto diverse a seconda delle storie che sono tra l'altro tutte ehm cioè io non condivido quello che mi viene raccontato ecco anzi io dopo quando ho finito il lavoro elimino tutto ciò che è personale per una questione anche di privacy insomma ecco perché quello che resta è quello che vuole infine essere narrato ed esposto al pubblico come dicevo subito all'inizio è come se fosse un diploma di buona riuscita di qualcosa che hai già fatto cioè tu sei già guarito hai già cicatrizzato già arrivato lì quindi mettiamo una corona su ogni cicatrice raccontiamo una la storia nuova e oppure quella anche che è rimasta e non raccontata e che voleva esserlo essere raccontata bene io aspetto le vostre domande se qualcuno vuole anche condividere un'esperienza perché adesso barbara intanto voglio farti i complimenti perché sono bellissime davvero hai detto bene ognuna dà sicuramente qualcosa che in quel momento quella persona che ha raccontato a te le sue cicatrici sei riuscita veramente a estrapolarle e metterle e farle diventare arte quindi davvero complimenti bellissime questa è la prima cosa che avevo visto già qualcosa perché insomma come hai detto noi ci conosciamo però vederlo adesso così è ancora più forte quello che arriva quindi veramente tanta tanta energia e messaggi molto molto importanti e a proposito proprio di questo volevo chiederti tu hai spiegato un po' come avvengono queste queste cose no quindi c'è la parte base e poi si va avanti a seconda di hai parlato anche di quello che possono essere delle foto comunque degli scambi fotografici visto che si è comunque dislocati in varie città come come avviene questo tramite delle foto che si fanno direttamente poi si inviano a te cioè com'è esattamente che avviene questo questo percorso da lontano ecco magari è stupida come domanda però mi è venuto in mente questo no in effetti la maggior parte le ho fatte in presenza e infatti per fare un esempio su foto che sono state fatte da lontano posso andare a recuperare qualcosa perché allora da lontano ho lavorato soprattutto con artisti ho sbagliato qualcosa ho lavorato soprattutto con artisti perché ero a contatto con loro in quel momento nella cripto quindi qualcuno mi ha mandato anche delle fotografie però altri magari hanno partecipato in modo diverso hanno mandato magari dell'arte loro o hanno voluto intervenire diversamente faccio un esempio ecco non so questo è quasi una cosa completamente diversa da tutto il resto eppure questa con le rane non so se vedete ancora lo schermo giusto è stata una collaborazione e magari dice meno no come dire ecco tolto l'immagine della persona del ritratto è molto diverso chiaro a me raccontano a chi la riceve racconta a qualcun altro racconterà perché è molto ecco una cosa che è molto affascinante e particolare è come risuonano nelle persone praticamente cioè io stessa a volte quando per premesso io concludo tipo questa la disegnata lui io ho animato un suo disegno mi sa che c'è solo quella fissa giusto no perché in questo sito non si potevano mettere i tempi quelli mobili quindi vabbè diciamo che cioè è molto particolare dicevo come risuonano negli negli altri c'è chi si innamora di un'immagine e chi di un'altra io per esempio ho la stessa emozione che probabilmente ha chi si aspetta le mie foto quando le preparo perché a un certo punto sto lavorando sto lavorando e non ho sempre cioè ho una linea guida però fino alla fine io non so cosa uscirà di preciso e poi arrivo a quel momento che sento che è pronta e poi emozione cioè questa sospensione che probabilmente chi si sta aspettando l'immagine che arriva io ce l'ho tanto uguale perché non lo so non lo so cosa succederà non so cosa mi diranno non lo so se piacerà è è molto interessante perché è tutta una dimensione di avventura e di scoperta che resta sempre attiva no adesso c'ho un problema che mi si è un po' bloccato ok ritorniamo un attimo qua che ci guardiamo perché non riesco più a mi si bloccava un po' sono più attenta se faccio una cosa sola comunque sì non ti ho risposto prettamente perché cambia a seconda di chi partecipa da lontano ecco sì c'è che manca un po' secondo me da lontano e che comunque non ho ancora trovato un modo veramente per scusate come si fa ecco per sostituire questa questa energia che si crea di persona ecco e chiaramente questo secondo me incide un po' sul lavoro però c'era l'idea di testare attraverso i i caschi della realtà virtuale ecco quello era un'idea perché in effetti ho avuto questa esperienza con gli artisti che ho conosciuto in questo periodo nella criptoarte di connessione molto forte quando ci trovevamo magari in un mondo virtuale assieme con i nostri avatar e in alcuni programmi sì un programma tipo paintbrush che però adesso non so se esiste ancora insomma uno di quelli in cui si disegna c'era l'opzione di disegnare assieme nella stessa stanza ecco questo era una delle modalità che poi non l'ho più portata avanti per varie cose però è una potenziale sperimentazione resta sempre aperta ecco la sperimentazione fa parte comunque di questo progetto no c'è una struttura base però di fatto è molto adattabile cioè io trovo proprio questa una delle sue qualità c'è la semplicità di base che poi si può riadattare al caso specifico come per esempio le cicatrici di territorio cioè è stato molto semplice prendere questa struttura e riportarla nella situazione che sono andata a vivere e in quel momento era un paese della Liguria dove c'erano state delle frane un paese Cosio da Rocha magari lo conosci anche e niente c'è stata un'indagine sul territorio un rapporto con gli abitanti e poi tutto un progetto di lavoro e visto che non potevo farlo live ho creato una galleria virtuale che si poteva visitare che potevano visitare anche loro che raccontava e raccoglieva quello che erano un po' queste indagini e c'è tutto sì c'è anche quello sul YouTube comunque si può andare a vedere la galleria virtuale c'è un walkthrough nella galleria virtuale che era stata creata apposta e poi c'è la raccolta di di come si è sviluppata in un piccolo blog quindi se c'è l'interesse beh comunque c'è l'ho fatto tutto apertamente molto sperimentale ma molto aperto quindi come tutto studiando avendo studiato io non faccio il corso di coaching io faccio il corso di codice studiando la blockchain mi viene da dire che con un po' di creatività certi progetti come il progetto del disegnare insieme il progetto di Dada avrebbero potuto tranquillamente essere sostenibili nel tempo però avrebbero dovuto integrare dei prodotti finanziari che ci sono fra la blockchain ma che non ci sono sono meccanici perché è tutto trustless e attaccarlo a progetti come il Dada avrebbe avuto avrebbe dato modo alle persone come te di continuare a ad usare a condividere le proprie esperienze come l'esperienza di cicatrice baci in forma remota probabilmente ci sono dei motivi che adesso mi sfuggono per cui questa cosa non è potuta continuare io non mi sento distaccata completamente io sto facendo una pausa da questo mondo perché ho bisogno di costruire qualcosa che diciamo lo vedo un po' come allora il mondo della cripto è il mondo reale si può dire è quasi assurdo dire così perché per me è reale anche il mondo della cripto però non so neanche non so mai come definire questa dualità no però diciamo si si avvicina come dire si avvicinano e si allontano si avvicinano e si allontano non si avvicinano e si allontano ancora si annusano si insomma non c'è ancora un'intera cioè un'integrazione vera e propria per tante motivazioni anche per il fatto che sia abbastanza nuovo poi non parliamo poi di tutte quelle altre cose un po' più nel campo degli interessi che poi dopo si sfocia in cose vabbè complicate però questo è anche il motivo per cui i creativi se ne stanno andando ma negli ultimi nell'ultimo mezzo due anni esatto c'è un emodo sì c'è una sorta di voler mettere mano a qualcosa in cui noi ci siamo dati io e Laura ci siamo incontrate lì e lì sei in un ambiente dove tutto è nuovo dove cioè devi avere spirito d'avventura e aver voglia di fare di buttarti senza sapere come andrà a finire e da un lato questa è la sua bellezza la sua potere che però poi si scontra sul non è più così non è più così eh esatto cioè iniziato a entrare era così quando ci siamo vestiti noi era bello così no? sì però mi son detta intanto mi aggiusto qua e poi torno anche là perché tanto sono due mondi che si stanno unendo in qualche modo cioè in vari vari modi io tengo diciamo la mia volontà è quella di stare ad osservare e di entrare solo dove c'è buona energia diciamo l'energia giusta buona e anche vabbè è già un magari una parola giusta quell'energia che senti che riesci a fluire che riesci a superare di ostacoli e però a mantenere vivo dai quella cosa che ci fa sorridere non lo so anche ci fa venire voglia ci tiene alta l'energia nonostante possa esserci un un inceppo o un problema da risolvere eccetera eccetera però quella mantenere ampio il mondo della creatività ecco e secondo me quello in ogni caso secondo me ci è scesa tutto un po' la catena perché adesso non è più una cosa che si sperimenta che devi essere un pochino spericolato adesso la gente va lì perché sa che ci sono i soldi e allora il tipo di gente che incontri è diverso ebbè ma noi noi esistiamo quindi in caso ci stiamo solo spostando ci ritroviamo in qualche modo secondo me useremo la nostra creatività per adattarci questo poco ma certo tu non lo so io spero che perché cioè ad esempio nella tua presentazione tu hai fatto vedere Super Re cioè a me questa cosa già mi dice tanto capisci perché già significa che comunque quello lì è stato un pezzo del tuo cammino è stato uno scalino della scala che stai facendo e comunque la mia decisione è stata chiara e il l'unico posto dove volevo cioè diciamo entrare nel mercato era nella cripto per una decisione personale di uscire da dei modelli che si erano un po' come dire inariditi qui attorno ecco mondo dell'arte qui attorno era un po' inaridito e quindi sono andata lì dove non era inaridito e quindi vado salto salto sto insomma da qualche parte dove le cose non sono aride mi piacciono le cose che in qualche modo si fioriscono in qualche modo si trasmutano ecco a me piace questa trasmutazione e parte del del percorso è anche stato l'unione con la casa editrice Cosmia la fondazione con Francesca e quindi il progetto è anche a livello di narrazione perché si tratta di una continua rinarrazione mentre le cose si rinarrano si elaborano e si portano su una dimensione diversa no? Cioè avete in mente quando succede qualcosa c'è l'articolo di cronaca no? l'articolo di cronaca narrazione molto oggettiva del fatto un giornale poi c'è tutta la narrazione al bar con gli amici c'è la narrazione che ti fai quando pensi a quello che è successo a casa mentre ti fai il caffè mentre ti fai la doccia queste cose poi cresci o ti succede qualcos'altro e cominci a cambiare un po' questa storia no? Cioè cominci a vederla o è una di quelle storie che si cristallizzano pum e si cristallizza lì oppure la maggior parte delle nostre storie comunque crescono con noi ci le rinarriamo a volte siamo lì che diciamo ah però cavoli adesso quando ripenso a quella cosa vedo quest'altro aspetto che mi era sfuggito ecco e questo secondo me è uno degli aspetti chiave insieme a quello della guarigione quello della narrazione della comunicazione sono delle strutture che noi non possiamo fermare cioè noi continuamente ci rinarriamo le cose ci rinarriamo il mondo ci rinarriamo tutto ma la stessa cosa succede con la guarigione cioè noi non è che smettiamo di guarire se ci facciamo male il corpo inizia a guarire se ci succede qualcosa poi noi iniziamo a reagire cioè siamo sempre anche in un processo di guarigione c'è il gatto che non so cosa vuole fare o stai o stai in braccio ma non si capisce come e e poi c'era adesso mi è sfuggita la terza parola che ho detto la narrazione la guarigione beh vabbè ce n'era un'altra ma adesso ne sono dimenticata ma ci sono tante belle cose nella vita che succedono che sono delle strutture che loro accadono e noi dobbiamo solo prenderne coscienza in modo che possiamo intervenire al meglio quelle che poi sentono rumoracci non si mangia quello il gatto mangia i cavi beh fai un salutino e poi vai a mangiare qualcos'altro e non la mia cuffietta io ho una domanda Barbara innanzitutto volevo però partire anch'io dai complimenti per tutta questa galleria che ci ha mostrato e che a me è arrivato ogni immagine come veramente una storia no? che c'è non un'immagine basta ma che ci fosse davvero questo vissuto del quale parlavi quindi tanti complimenti molto molto belle e arrivano e la mia domanda era perché hai parlato del videocorso che volevi fare cioè che stai facendo quindi siamo già avanti quindi nel caso del micro del videocorso scusa nel nel caso del videocorso proponi un un percorso autogestito in pratica dove te poi non è che ti accordi con tutti per fare per andare a creare queste immagini giusto? esatto diciamo che non c'è il non c'è il finale sotto forma di fotocollaggio o comunque non c'è la mia partecipazione io do una supervisione ciao ciao laura a presto e c'è una supervisione comunque sì perché comunque ci tengo sento chi chi partecipa chiaro se qualcuno non vuole si fa il corso da solo e voilà però nel corso compreso anche comunque una breve chiamata conoscitiva iniziale è una chiamata conclusiva perché è anche un peccato non approfittare e non avere un confronto sul lavoro perché comunque sì puoi anche mettere tutto quello che vuoi in un corso però poi ecco una minima componente umana un minimo feedback un confronto direi che sia anche dovuto cioè io lo trovo importante sì grazie grazie e voi quando pensate a cicatrici cosa cosa vi viene in mente ciao Barbara posso parlare certo vabbè è inutile che rinnovo i complimenti perché io non ho detto nulla finora perché stavo cercando di capire bene di che cosa si trattasse ma anche in merito alle fotografie che hai fatto vedere perché comunque sono un po' profano di questa cosa qua in particolar modo benché comunque io insomma tu lo sai quando si si tratta di parlare del profondo e delle proprie cicatrici sono sempre anche io ho questa propensione non a caso sono qui stasera non per solidarietà ma sono qui proprio perché mi interessava la cosa quindi sulle cicatrici ci sarebbero tantissime cose da dire ma penso che ognuno che ognuno di noi qui possa possa raccontarsi in merito alle proprie cicatrici quindi non lo so da che parte vogliamo cominciare ma allora chiaramente adesso non è che ci possiamo dilungare e parlare effettivamente di tante cicatrici però come tu hai detto ecco quello che potrei cogliere l'occasione di dire è il fatto che noi abbiamo tutti delle cicatrici e è un tema che è universale non credo ci siano ecco persone escluse diciamo in qualche modo però il modo in cui ne parliamo e lo spazio che gli diamo è molto variato e quello che diciamo tu puoi essere scusa può venirti magari facile andare nel profondo riconoscerle osservarle e questo può essere d'aiuto a chi invece fatica perché è come se tu sei riuscito a creargli questo spazio di accoglienza io lavoro tanto sullo spazio di accoglienza e sulla testimone cioè solo se si crea lo spazio giusto certe cicatrici e certi racconti emergono non riescono neanche a emergere a volte perché non si sa come creare questo spazio e anche a volte perché magari si è vissuto di aver dato spazio e poi non sapere cosa fare con quello che esce quindi sono tante cose da usare nella narrazione io penso che parlando di cicatrici già il confronto il confronto con persone insomma come te o con persone che con le quali siamo qua stasera che comunque penso che sono qui stasera perché hanno anche loro una propensione a valutare se stessi perché quando si parla di cicatrici si parla di se stessi delle proprie cicatrici a parte quella del territorio anche anche il territorio può infliggere delle cicatrici a volte e parlandone già confrontandosi si mette già in atto più o meno il processo di guarigione nel senso se tu parli di cicatrici sai di essere in un posto all'interno del quale sai che non sei giudicato perché ovviamente come dicevo prima le cicatrici ce le hanno tutte tutti bene o male poi qualcuna si è risolta quindi potrebbe essere oggetto di discussione proprio in merito al fatto che è stata risolta e potrebbe essere di aiuto per qualcun altro che invece magari la sta ancora elaborando quindi parlarne fa sempre fa sempre bene si questo questo è fondamentale hai ragione quello che voglio anche aggiungere è quello che mi ha dato proprio la mia esperienza personale attraverso le arti è quello di aprire anche non solo alla narrazione a parole ma anche a qualcos'altro che vuole emergere e allora ci sono delle cicatrici che non riescono a essere diciamo a concludere il loro percorso di guarigione finché per esempio non hanno urlato ballato cantato ipotesi non hanno strappato qualcosa non hanno che ne so ci sono proprio delle azioni e dei gesti rituali e delle componenti che ho riscontrato più volte e a cui mi voglio proprio dedicare mi sono dedicata a dare voce spazio e ascolto il più possibile che sono molto sottili non è evidente e a volte c'è proprio bisogno di come dire avere qualcuno che ascolta perché anche da soli a volte ci si giudica anche di più di avere qualcuno che ti sta ascoltando col cuore aperto e quindi ecco mi piace proprio riuscire a dare questo spazio ecco a tutti gli elementi che vogliono emergere e per questo ecco io questo percorso lo faccio e l'ho portato avanti con l'aiuto dell'arte più sì ci sono gli elementi di psicologia e crescita personale eccetera però ecco questi strumenti che vanno proprio a lavorare a tutto quello che è non verbale assieme al verbale però piace aggiungere questo proprio per cogliere l'occasione ovviamente della presentazione perché ovviamente chi è qua e si ascolta la registrazione avrà voglia di sapere del dettaglio in più magari su quello che faccio sì diciamo che poi alla fine almeno io penso questa cosa qui ognuno di noi parlavi prima di urlare la cicatrice è un dolore che va urlato perché se te lo tieni dentro ci sono vari modi di urlare il dolore c'è chi fa musica c'è chi fa arte come fai tu che attraverso attraverso i quadri attraverso i disegni attraverso la fotografia no e sembrerebbe sembrerebbe quasi risolvere il problema quando viene apprezzato quando viene quando un quadro non so mi viene metto un artista che che urla il suo dolore attraverso una fotografia o un quadro e viene riconosciuto perché c'è qualcuno che cerca di capire attraverso quel quadro la personalità dell'autore e e in quel caso lei penso che che una volta che 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 una persona un personaggio una persona X riconosce il valore di questo quadro riconosce il valore di quella artista e in quel momento l'artista ne rimane gratificato ovviamente però la domanda è il suo problema poi la sua cicatrice l'ha risolta attraverso questa cosa secondo te questa è una domanda che mi viene così può sembrare banale però per me è molto importante no no quello assolutamente tu parli della di chi ha partecipato giusto si si ma allora io non credo che si possa veramente porre la parola fine su nessuno dei nostri processi perché finché siamo vivi le cose tendono a crescere a mutare a migliorare si sperano quindi io penso che lì quello che si ferma è un momento importante che voleva uscire che aveva bisogno di essere espresso è come se tu fermi quel messaggio cioè quel momento quel messaggio è come una dichiarazione un pochettino no e come hai giustamente notato il riconoscimento è una parte fondamentale e e che noi non siamo veramente scollegati uno dall'altro siamo comunque collegati per quanto a volte cerchiamo facciamo di tutto di come dire anche di prendere il nostro cioè spazio ok sì giusto abbiamo in gestione il nostro spazio la nostra unicità però alla fine non riusciamo io in inglese mi ricordo che l'avevo facevo le mie gif con scritto siamo condannati a comunicare ma in modo ironico però nel senso un po' così cioè dentro di noi c'è un corpo che continua con le nostre cellule tutto quello che abbiamo comunica noi anche se siamo lì fermi zitti così stiamo comunicando qualcosa cioè è come se non possiamo astenerci dalla comunicazione certo quindi questa cosa del riconoscimento e dello specchiarsi nell'altro è proprio qualcosa che poi si hanno studiato nella psicologia non so per esempio mi viene in mente Lacan dove proprio ne parla a lungo io non te lo so replicare perché io poi passo da una cosa all'altra molto velocemente ma parlava proprio di come si sviluppa il bambino lui se guarda lo specchio è come un gatto quando è piccolo cioè non capisce la la disconnessione la sua integrità però la mamma il papà ma guardalo lì guarda che bello guarda che bello il salvino guardati come sei bello guarda qua con la mamma cioè piano piano si crea questa struttura struttura psicologica e personalità e però ci viene data dagli altri continuamente quindi il riconoscimento è veramente importante se poi hai avuto un evento traumatico e spesso le persone allora prima di tutto quando c'è un trauma è inevitabile che vai a cambiare qualcosa nella tua vita per chi non l'ha avuto può essere spaventoso può essere difficile magari per il tuo bene ma non non sanno neanche come interagire no quindi questo nostro percorso interiore o quello che noi stiamo vivendo per cioè siamo noi che dobbiamo comunicarlo nel modo nel modo in cui gli altri lo possono riconoscere cioè è per assurdo però è proprio così no no è così è così è così è quella la crescita personale quello di diventare adulto cioè non puoi aspettarti che gli altri arrivano e capiscono ma tu devi riuscire a trovare quell'uscita e quel modo per esprimere quello che vuoi che venga riconosciuto quello trovo molto importante arrivare a quella conclusione a quell'uscita e poi momentanea non è risoluzione e finalità perché tutto cresce e perché comunque magari eh non lo so è difficile da dire perché io ho lavorato con più di trenta persone ma ognuno aveva una necessità diversa e la necessità guida un po' anche quello che esce come fotografia le prime erano un po' più timide perché erano le prime diciamo la prima serie forse anche un po' la seconda era un po' più timide e poi dopo si vede che la cosa si è strutturata meglio ma io lo lasciate tutte che così si vede scusate ti sana beh alla fine mi viene in mente questo è un epitodo da raccontare mi ricordo una volta in seduta andai dallo psicologo qualche tempo fa a cospetto di un mio problema per me di una cicatrice forte io mi ricordo che all'epoca mi raccontavo ma quasi volessi la soluzione immediata da lui a un certo punto alla fine gli dissi ma e quindi cosa devo fare lui fa mi è stato un po' in silenzio poi mi ha detto e non lo so mi dica lei come per dire non c'è mica la bacchetta magica capisci quindi già avere una persona che ti ascolta e che non ti giudica in questo senso ti fa stare bene comunque ti aiuta il processo di guarigione no? il psicologo non è da manuale ti dice guarda Salvino fai così 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 che guarisci stai bene no? se tu non lo elabori dentro di te non ce la fai capito? quindi è un po' così che funziona e con l'arte l'arte è un po' come anche per gli artisti anche quelli che fanno spettacolo il pubblico gli applausi il riconoscimento del pubblico è l'infamità perché si rivedono attraverso attraverso quel successo e quindi ci può stare insomma il discorso che dici sì comunque io come artista e come persona che intervengo non mi diciamo non mi nascondo non è che mi astengo anzi io dico sempre che mi prendo la responsabilità artistica nel senso che se tu scegli di venire da me vieni a parlare con me e io non sono neutra cioè e no secondo me è importante perché è una forma di riconoscimento anche del sì sempre di questa unicità perché se tu vieni a raccontarla a me io magari non sto a zitta come lo psicologo per dire però magari poni qualche domanda giusto per capire per capire per aiutare a tenere fuori qualcosa che magari non esce in quel momento o magari una cosa ecco per esempio delle cose che mi piace è andare a scoprire i dettagli che sono lì che senti che vogliono dirti qualcosa ma che non vengono subito colti e magari un po' a aumentare sai a dargli come se alzi il volume no? ma solo per per farti l'esempio del fatto che comunque se tu racconti la stessa storia ogni tuo amico per esempio ti darà il suo parere la sua risposta eccetera in questa comunicazione continua per questo per me restare attivi e riconoscersi mantiene questo lavoro del dialogo in presenza cioè se decidi di lavorare con me non stai non stai più lavorando da solo nella tua testa abbandonato con la tua cicatrice c'è un confronto aperto e con una volontà di farne qualcosa e questo è un po' un patto è un po' un patto no? come perché alla fine se vuoi continuare così qui non è il posto giusto se si vuole anche solo avventurarsi o due o tre persone sono venute per pura curiosità pura curiosità una si è divertita tantissimo una si è sorpresa che ok non me lo aspettavo che fosse così intenso sai e quello che voglio dire c'è c'è questa dinamica penso che sia ecco bello bello riconoscere per me perché io sono curiosa mi piace questo cosmo che mi si avvicina questa immensità e mi piacciono le storie è incredibile come ognuno narra la propria storia cioè è molto affascinante fondamentale nella relazione credo che la curiosità io sono un po' un fan della curiosità soprattutto in questo senso è molto importante cioè ma poi comprendere l'altro se no sei curioso o curiosa con la dimensione anche di capire cosa deve essere portato fuori e cosa deve restare tra di noi ecco perché per esempio quello è molto importante io sulla riservatezza sono molto 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 in chiaro io tutto quello che mi viene detto non lo pubblico cioè le foglie non sono mai pubblicate con dei riferimenti personali alle persone questo se voglio non lo fanno loro io non lo faccio perché per me una volta che una cosa è stata detta noi l'abbiamo siamo già nel processo di trasformazione finito il percorso io cancello i miei archivi e lo dico sempre se volete qualcosa me lo dite adesso ma se no io adesso lo cancello perché quello che resta è questo e da qui si può solo andare avanti così che perché comunque non mi interessano le morbosità qua c'è una sorta di liberazione qua è per liberarsi per andare avanti per entrare in un altro tipo di contesto no cioè quindi il resto certo non è affarmio si chiama professionalità no ci sono professionisti che tengono giornali che invece si nutrono di queste cose quindi è la loro professionalità eh già credo che però quello che fai tu appunto è tutt'altro giustamente perché un conto è raccontarsi per riuscire a superare quello che possono essere queste cicatrici che sono anche delle a volte delle paure eh che che creano una sorta di negazione proprio anche nel nel poterle rivederle riparlarle e e quindi eh riuscire a fare una cosa del genere è di fondamentale importanza e non ci deve essere assolutamente nessun tipo di giudizio perché altrimenti cessa proprio questa questa particolarità di elaborare queste cicatrici eh viene ad essere ingigantito ancora di più secondo me la paura e e non forse neanche poi rimettersi più neanche in discussione quindi è ovvio che eh chi affronta una cosa del genere deve assolutamente eh comprendere quello che tu stai dicendo e e quindi se vuoi adesso altrimenti cancello tutto e credo che sia una sorta anche di per far comprendere davvero che l'elaborazione c'è stata ma non c'è stato un giudizio c'è stato un aiuto una forma di confronto proprio per elaborare e per guarire e quindi i famosi baci che finalmente arrivano a questo punto eh sì ottima osservazione beh ma è anche una forma di rispetto penso nei confronti del certo quindi cioè manifesti serietà ovviamente no io non me ne faccio più nulla quindi non pubblicherò mai più nulla è una roba nostra che c'è stata abbiamo fatto questo percorso insieme è rimasta lì certo da basta sì ma infatti c'è anche la possibilità di farle senza che le foto vengano esposte io adesso queste le ho fatte così e le prime persone lo sapevano anche perché altrimenti non c'era possibilità di mostrare il percorso no c'è una questione però per me è identico io alla fine non ho fatte cioè ho aperto da poco questa opzione e quindi solo una persona l'ha fatta così solo per sé e però poi alla fine mi ha detto comunque se vuoi queste due pubblicali solo questa la voglio tenere solo per me per dire non le ho ancora pubblicate sono ancora lì però ho detto le tengo per quando magari si rilancia il progetto sai così un po' per riagganciarmi e però sì è importante capire che io quando parlo di esporsi non è che per tutti vuol dire andare in una galleria ecco per alcuni potrebbe essere anche solo tenersela lì in casa o farla vedere a due persone che ritiene importanti cioè sì o rivederla proprio per dire ci ho fatto sì è certo bella bella cosa ma poi è bello vedere cioè io adesso mi emoziono se ci ripenso ecco come me l'hanno detto che il mio campo è lavorare col femminile con le emozioni perché vabbè io ci sento molta forma io mi emoziono quando ripenso anche a quando c'è la il photoshooting no cioè per alcuni è stato veramente forte potente potente cioè io io mi emoziono essere potuta sai essere presente essere quel semino e quello a me da tantissimo ecco quando si parla del sentirsi gratificati no questo è è bellissimo cioè perché vedi che le vibrazioni cambiano no nella persona che qualcosa si è sbloccato qualcosa è cambiato no questo è un momento in cui c'è proprio è la commozione anche poi a volte sono cose anche molto forti e ci sono temi in queste foto che alcuni sono veramente molto forti e non tutti i temi forti magari li puoi riconoscere dal tipo di immagine perché non viene narrato non viene narrato cosa è successo cioè è già tutto in un mondo simbolico in un altro tipo di narrazione no quindi resta proprio il processo di guarigione ma è quello che è importante narrare no da ridare bello molto bello e sì quando vai e ti riguardi la foto non devi riconoscere cioè non è per farti ricordare cosa è successo per farti ricordare cosa tu hai fatto succedere cosa tu hai portato a guarigione spesso è già straconcluso eppure nessuno l'aveva ancora visto no certo quindi dovremmo venire da Taffi per fare questi shooting se volete certamente a distanza sarebbe bellissimo eh Salvino che dici sì certo Ale ci sei anche tu no ma poi io come ho già detto mi vedo già in movimento quindi a me piacerebbe veramente riuscire a fare un diciamo un percorso sai degli appuntamenti in qualche città in particolare in realtà ho già un paio di persone che ai tempi mi avevano mandato delle cose poi dopo c'è lì il progetto pronto per quando si riuscirà a farlo dal vivo e quindi insomma sarei curioso di vedere quelle mie cicatrici vabbè potrei tirarne fuori una delle più importanti cosa salterebbe fuori un quadrone grande con una parete un arazzo ottimo un arazzo una maglietta una maglietta è ottima per portarlo in giro certo certo e beh sì meglio di così bene sono cose belle perché per me sono novità quindi sono cose cose assolutamente fantastiche nelle quali io poi credo rispetto al solito matrix delle cose che passano quasi sempre un po' in secondo piano soprattutto quando sei vecchio come me perché hanno tutti un mindset completamente diverso quindi queste cose che sono cose ho lavorato invece pensare che ci sono anche queste cose è veramente fantastico veramente bello c'è una mia amica che mi ha appena fatto la testimonianza ha proprio detto è stato un attimo fuori dalla matrix sì sì ma veramente pazzesco però vecchio mi suona un po' strano come parola dai eh no no vecchio di qualche epoca fa diciamo no il taglino va bene il cospetto dell'altro Alessandrino che è super giovane ma Alessandro è Alessandro è ovvio però forse l'unico forse scusa se mi permetto magari Andrea magari forse forse ci avvicinavamo ma mi sa neanche complimenti per tutti i libri che hai alle spalle spero che tu li abbia letti tutti sono pinti eh certo Andrea Andrea ci vuoi fregare ma se è una bella definizione per Salvino allora piuttosto che vecchio direi vecchia scuola che è un'altra cosa molto meglio suona senti come suona è più elegante aspita ebbè sei elegante dunque mi sta ok ok accetto c'è qualcuno che viene ancora in mente qualcosa prima di chiudere ultima domanda sul termine sul finale come possiamo eventualmente contattarti così lo dici a chi magari non ti conosce è giusto e non sa a questo punto beh sì sì giusto allora il sito è in fase di preparazione quindi non c'è ancora però io sui social ci sono ci sono su Instagram come Barbara Tosti o come Cicatrice Baci sono su Facebook sempre Barbara Tosti mi trovate così che è facile col mio nome e beh ho fatto il canale YouTube che tra un po' arriverà un po' ah se l'hai canale YouTube sì 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 Cicatrice Baci anche canale YouTube ah è vero sì l'avevo già visto sì sì è vero sarei anche su Twitter però al momento non lo sto usando lo ricomincerò a usare tra un po' sì mi hanno LinkedIn sì LinkedIn c'è anche sto ricominciando a usarlo perché non sono abituata a usarlo però adesso sto cominciando a integrarlo diciamo però prendono un sacco di tempo i social però ci sono ho il gruppo Telegram più personale dove beh mi piace tenerlo comunque che è il gruppo un po' più diciamo è aperto anche alla discussione ecco così non è proprio solo per non è un canale dove posto le cose cioè se mi va di chiedere qualcosa a chi mi segue e ha piacere essere uno spazio un po' più ristretto di conoscenti ecco tengo il canale Telegram per queste cose e così sia un po' tutti assieme se si vuole anche portare una domanda eccetera resta lì ecco prima di diventare qualcosa di pubblico non so quindi quello lo tengo volentieri così e e poi niente ci sono sempre le solite cose numeri di telefono le mail però ecco ultimamente le mail sono un po' cose che mi dimentico non lo so se esisteranno ancora mio figlio dice ma no la mail serve solo per aprire i profili sulle altre cose per il resto però sì e poi magari questi dettagli di contatto li metto sotto la registrazione così almeno si possono trovare e voilà poi quando sarà pronto anche telepaticamente ci potremo sentire nei sogni incontrarci nei sogni a proposito di telepaticamente adesso ecco una cosa che invece mi ha spaventato tantissimo visto che hai parlato di telepatia che è un'altra cosa ed è stupenda ho sentito che oggi hanno impiantato il primo microchip ad una persona il primo ma non è che ce ne sono già a me sembrava che c'è gente che ci gioca già da un po' da queste cose ma microchip in che senso proprio microchip in testa sì ma vero è proprio sentita alla radio quindi cioè nel senso non è una una cosa così quindi ecco sconvolge ed è bello invece avere e poter parlare invece di cose così meravigliose come abbiamo fatto questa sera perché almeno capiamo che c'è un futuro che sarà sempre più un punto interrogativo giusto sbagliato non si sa però fortunatamente siamo degli esseri umani pensanti con un cuore con delle emozioni e proprio sono le nostre emozioni che ci differenziano rispetto l'uno dall'altro e ci rendono unici e quindi queste cose Barbara portiamole avanti e tu devi continuare a portarle assolutamente avanti questo è quello che mi sento di dire in funzione anche di quello che è stato detto stasera e dell'augurio che voglio farti veramente che tu possa continuare a fare sempre di più e avere sempre più persone che possano richiedere questa tua competenza e questa tua professionalità concordo concordo pienamente beh grazie sempre più gente pensante altro che intelligenza artificiale sempre più gente pensante più emozioni che sono quelle che ci tengono vivi guai se non ci fossero le emozioni i sogni ma scherzi sì abbiamo tanto da esplorare e quindi secondo me è buono esplorare perché è così che se noi siamo forti resilienti in chiaro su quello che siamo la tecnologia la utilizziamo e non ci facciamo usare dalla tecnologia perché non è che sono incontro la tecnologia anzi la sfrutto la utilizzo e quindi penso che deve andare di pari passo perché ormai come tutto è inevitabile che cresca chiaramente noi dobbiamo comunque essere un passo avanti in qualche modo no? così almeno la sfruttiamo la usiamo e abbiamo creata noi non è che ecco quindi sì a volte ci sono anche un po' di spauracchi su quello che può diventare la tecnologia però dico boh ma cos'è è come è comunque proiettare qualcosa che in qualche modo deve avere dentro no? quindi se noi lavoriamo su noi stessi e non abbiamo queste cose dentro non le proiettiamo fuori costruiamo qualcosa che ci serve in un altro modo no? e poi quando parlo di sogni ovviamente non è che mi riferisco ai sogni quelli tu parlava anche la Gabri quelli che ti portano a vedere un futuro migliore anche di quelli perché sognare di avere qualcosa di avere il meglio per sé e di rincorrere qualcosa fa sempre bene ma io parlo proprio di sogni quelli che vengono costruiti dall'inconscio e dall'inconscio quelli che fai quando vai a nanna e la tua mente elabora che bisognerebbe elaborare sempre perché quelli ti aiutano a capire veramente a volte se li sai comprendere ma non con i libri della smorfia quelle robe lì della napoletana che elaborarli al meglio per cercare di capire veramente qual è la tua cicatrice per risolvertela attraverso i sogni si può fare si possono fare tante cose attraverso i sogni c'è anche una seconda vita nei sogni ci sono dei sogni che passano almeno almeno anche cioè proprio per rifarmi anche alle questioni più sciamaniche che comunque mi interessano e il lavoro sul sogno è veramente una cosa potente tu puoi andare proprio a fare cose nei sogni cioè si appunto guarire te ma guarire anche altri anche trovarti con qualcuno io non ho avuto tantissimi però diciamo che una qualche esperienza mi è capitata e in effetti la qualità del sogno è totalmente diversa e sì anche perché il sogno lo costruisci tu non è che arriva per caso cioè rispetto alle vicerie ah è un desiderio inconscio per la tua belina non è mica così cioè il sogno è elaborato costruisci tu i personaggi gli oggetti li metti tu qualcosa che magari ti fa soffrire di più rispetto a un'altra cosa scegli quella persona non razionalmente ovviamente perché quella non si può toccare piuttosto che come sono tutte cose da se si legge qualche libro di Freud insomma si può sapere è un mondo è un mondo lì dentro eh sì sì ho ancora tanto da esplorare infatti è una cosa bellissima che abbiamo ancora tanto da esplorare eh sì perché quando qualcuno mi dice eh ma tanto abbiamo già visto tutta la terra a parte che sì forse forse ma non c'è solo la terra appunto abbiamo sempre qualcosa da esplorare se questo è quello che ci piace lo troviamo un territorio nuovo da esplorare oppure come dici Salvino lo creiamo e poi lo esploriamo se finisce lo creiamo e poi lo esploriamo ma Barbara Barbara scusa ma sei riuscita in pratica a fare un incontro con altre persone in un viaggio astrale in pratica da quello che ho detto tra le righe perché mi è capitato sì più o meno sì 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 eh sì io non so bene se si chiama viaggio astrale o meno però sento che ci sono diverse qualità e diverse tipologie di sogni e e è talmente chiaro e diverso che poi dopo lì dici ok non è più tanto una fantasia no eh delle persone che diciamo non è che ma addirittura con mio figlio non è che proprio il sogno era spiaccicato identico ma proprio di aver fatto un pezzo di sogno assieme cioè la mattina dopo ci ricordevamo il sogno quella parte il sogno quasi uguale sì beh qual'energia l'energia che gira insieme ai componenti della famiglia può capitare sì sì o persone che hai conosciuto sì esatto così e quello è comunque abbastanza forte sì perché guarda se tu conosci una persona e la frequenti una sorella una mamma una zia un'amica no persona con la quale hai un rapporto quotidiano più o meno e ti racconta un sogno poi tu magari glielo chiedi hai cosa hai sognato parlami di sto sogno così così riesci mettendo insieme le cose poi essendo staccata tu emotivamente perché lei magari lei o lui ci danno una spiegazione che è quella che fa più comodo a loro ovviamente normale no di noi così però tu poi se riesci a lavorare il sogno riesci a tirare fuori io spesso lo faccio lo faccio che i miei figli in particolar modo perché li conosco molto bene no quindi e proprio mi rendo conto come a volte si usano delle cose degli oggetti sostituiti alle persone oppure delle altre persone rispetto in realtà a quella che magari ti ha arrecato il dolore che potrebbe essere una madre ok Barbara una madre che ti arrecca un dolore a volte magari fai fatica a dire a te stessa che una madre può arrecarti un dolore e magari il tuo inconscio sceglie un'altra persona che però quella persona rappresenta la grande madre potrebbe essere anche la terra capisci? potrebbe essere la terra che è la grande madre quella che raccoglie il seme che accoglie il seme ok? sì questo è quello che è piuttosto legato al subconscio e l'inconscio penso che Andrea adesso stava parlando di qualcosa di più conscio dove tu riesci a essere più conscio e più presente se non erro perché appunto entri in una fase in cui sei più attivo e più conscio è come se ti muovi proprio in un nuovo territorio cambia proprio la dimensione cioè la maggior parte dei sogni sono come dici Salvino di questo tipo perché è proprio un'elaborazione continua di altre parti di noi che hanno questo tipo di linguaggio poi dopo c'è comunque quella dimensione in cui entri in un'attività diversa non so neanche bene come spiegarla perché magari dovrebbe succedere se mi succede più spesso poi comincio a avere un po' più di di termini però cioè di andare e trovarsi con qualcuno e fare qualcosa di specifico cioè vivere e decidere assieme comunicare con la persona nel sogno riuscire a fare quelle cose che ti dicono ti sei guardato le mani senza svegliarti queste cose è chiaro ultimamente non ho più esercitato però si può anche praticare ed è molto interessante come dimensione tante avventure che si vengono fuori tante cose perché non è che è tutta qui io credo proprio che ci sono delle dimensioni all'interno delle quali vai anche quando ti addormenti io in parte l'ho vissuto un po' quando sono stato in coma potrei raccontarne di cose non le posso dire a tutte però sono delle cose abbastanza interessanti eh sì comunque Barbara avevi ragione parlavi proprio di questo del distaccarti fai tutto sotto controllo e addirittura prima vedere le mani oppure uscire fuori dal letto ti giri ti vedi che stai dormendo e giri per la stanza da sola cioè tanta roba comunque tutta roba programmabile adesso devo ritornare questo mi capita anche a me di notte mi alzo giro vado nel frigo prendo da mangiare e poi 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 paghi torno questo capita spesso lo sto scherzando ovviamente ovviamente però ovviamente è una fase più corta Andrea intendeva altro ma sai che bello mi sono alzato vado sulla porta vedo la maniglia faccio per prendere la maniglia attraverso faccio così allora la porta la manovra oltre allora in quel momento non ho preso paura vado attraverso la porta scendo di giù scendo di là vado a fare dei giri ma siccome che non avevo programmato non avevo fatto un piano d'azione su cosa fare una volta che pensavo sono tornato indietro nel corpo basta non c'è perciò rischi zero ah sì così io avevo non vi capitava di sognare tipo che se ti impaurite state scappando da qualcosa ma non riuscite a muovermi volete andare alla manetta ma siete sempre lì c'è pazzesca sta cosa veramente come se fossi trattenuto da qualcosa e qua mi viene in mente per ironizzare e poi se Barbara magari vuole chiudere chiudiamo io dico l'ultima cosa per scherzare io mi raccontavo questo amico qua mi ha trascinato in questa cosa io poi sono un credulone ci credevo vi fate pensare che una volta si parlava un po' di queste forze sovranaturali scendevo dalla mano ero arrivato al parcheggio ho aperto la macchina volevo scendere ma non riuscivo è come se ci fosse qualcosa che mi attaccava il sedile io cercavo di uscire ma non riuscivo a scendere a un certo punto mi sono accorto che non avevo staccato la cittura di sicurezza era una cosa con il giusto per creare rapport così sarà più facile per Barbara la prossima volta ma sì io non per me guarda io ho preso il caffè apposta però però no io penso che può essere curioso e interessante ascoltare anche questa tematica possiamo anche comunque lasciarla per me fa sempre parte anche della comprensione di quali sono i mondi in cui si può esplorare e tipo quale tipo di diciamo rapporto si può instaurare di cosa si può parlare ma è molto bello anche poter lasciare e che si possa capire dove fin dove si può entrare in questo percorso però ecco giusto per chiudere io allora alla fine niente invito chiaramente tutti coloro che stanno ascoltando in registrazione a comunque farsi avanti se hanno domande se vogliono contattarmi e poi visto che questo andrà su youtube mi metterete anche il like vero? sto imparando per queste cosette e niente poi la cosa importante un po' anche che ha portato alla creazione di questa sessione prima sessione perché voglio ripetere un po' anche questi momenti è anche il crowdfunding che ricordo non sarà attivo per sempre ma che vuole ecco invitare anche chi vuole magari contribuire prenotando un benefit utile a se stesso oppure anche solo per sostenere il progetto è di grande aiuto perché servirà soprattutto per ecco finanziare quelle spese vive molto forti che ci sono anche in particolare le mostre e altre spese più dedicate alla costruzione di sito le beh varie varie implementazioni che dovrò fare anche per poter seguire più persone possibili insomma io se non vado avanti e un po' automatizzo questa cosa resto un po' anche bloccata nel poter far poco ecco per cui io ho investito già tanto ma mi apro anche a questo aiuto esterno in modo che possa fiorire e fiorire ancora di più e insomma incontrare più persone possibile anche le associazioni sono benvenute per creare eventi nel proprio nei propri luoghi o all'interno del settore di cui si occupano magari cicatrici specifiche o quant'altro quindi ecco questo ultimo appello chiudo perché è un po' doveroso scusate e voilà io vi ringrazio tantissimo perché è stato bellissimo avervi qua e poter discutere è sempre molto arricchente piacerebbe fare anche un salotto più specifico dove non c'è nemmeno la presentazione e dove c'è un tema o una cicatrice in cui proprio intessere il discorso più nel vissuto ecco così per sperimentare una narrazione diversa dove non dobbiamo per forza dire cos'è successo ma parlare proprio di come ci siamo sentiti o di come possiamo raccontare in modo diverso le cicatrici è un po' sperimentale no? però ecco questo uno dei prossimi incontri che voglio creare e quindi siete anche voi invitati e chi si vuole accodare con noi nel salotto sarà un piacere grazie grazie a te Barco ciao buonanotte ciao grazie a tutti i ragazzi ciao Gabri ciao grazie ciao ciao ciao